Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite Cristina Penuccio, doppiatrice di elettore di doppiaggio, assistente di doppiaggio, dialoghista, facciamo dire mondo del doppiaggio a 360 gradi, ben visto, e a questo punto prima cosa la domanda viene spontanea, oggi chi è Cristina e come si rappresenterebbe in un film, una serie, un cartone Cristina? Mamma mia che domandona, piacere di conoscerti, è stato un immenso piacere prima di tutto, e saluto a tutti, un saluto a tutti. Chi è Cristina? Cristina è una ragazza, è stata una ragazza molto ingenua, che ha amato questo lavoro e lo ama tuttora, i dialoghi sono stati veramente importantissimi per me, anche per una conoscenza del mondo in generale, perché poi ti insegnano anche a vivere e a capire che i meccanismi nella vita sono sempre quelli alla fine, no? Però Cristina Cartone Animato lo sai che non so cosa, forse la rappresenterei forse un po' sfigatella, un personaggio simpatico ma sfigato, nel senso che buona, ma che forse vorrebbe arrampicarsi, fare tanto, però poi si lascia prendere dal sentimento e molla l'osso, diciamo. Chi potrebbe essere? Lo sai che non so, proprio Paperino? Diciamo forse più un Paperino della situazione, sì, perché poi ha pure Puggino, Gastone è quello fortunato e lui comunque impacciato, goffo, sì, forse una Paperina, no, Paperino proprio maschile, perché Paperino era un pochino più disincantata. Questo è, diciamo, per quanto mi riguarda l'immagine, certo non è molto eclatante, però mi sarebbe piaciuto fare la Superwoman, una bella diva, ma evidentemente non sono fatta per questo mondo. E a questo punto partiamo dando la base dialoghista. Il dialoghista, in un film, in una serie, un cartone, è una figura comunque irrilevante, perché chiaramente ciò che si va a portare sullo schermo è una rappresentazione non perfettamente uguale, perché a volte abbiamo scoperto che nei dialoghi americani, inglesi, qualche battuta non ha senso logico e quindi bisogna anche adattare, studiare e renderla accettabile, ma soprattutto logica nella nostra lingua. Guarda, io ho sentito anche altre persone che dicevano al contrario, ma io ogni volta che devo fare un dialogo bello, brutto, telenoelas, scrausa, io ho sempre lo stesso approccio. Secondo me la professionalità è quello, anzi, più un prodotto ha bisogno di aiuto, più mi ci impegno. Nel senso che la telenoelas sai benissimo, queste cose sfigatissime, quello che entra soppicando con la testa esce con la sinistra, per cui devi sopperire anche a tante cose nel dialogo, eccetera. Ha bisogno di aiuto, quindi faccio la croce rossina. Per quanto riguarda il dialogo, io del film o delle serie mi vado a studiare proprio quello che è il regista, quello che vuole, la sceneggiatura, quello che è il messaggio, per entrare proprio dentro al sentiment del prodotto. Il bambino ovviamente deve parlare come un bambino, il professore come un professore, l'avvocato come un avvocato, per cui ogni volta faccio dei percorsi veramente a seconda della situazione in cui mi trovo, se sono un imputato, se sono una donna violentata, oppure un uomo che invece è un assassino, e quindi mi ritrovo a fare delle ricerche su quello che è stato e che è avvenuto veramente, in modo da acquisire quella terminologia, che mi consente di essere realista e di avvicinarmi anche al prodotto, al regista, quello che dice lo sceneggiatore. Io cerco sempre di essere vicinissima a quello che dice l'originale, molto vicina, rispettando le labiali, perché sono molto maniaca in questo. Sono veramente maniaca. Oggi, come oggi, con il nuovo approccio di queste piattaforme, è cambiata un po' l'impostazione. Mentre noi avevamo una libertà che poteva essere data dal sfruttare le labiali e anche sul muto di qualsiasi delattore che stavi adattando, oggi invece le nuove piattaforme vengono dicendo, guarda, il sonoro dell'italiano deve rispettare il sonoro dell'originale, ingabbiandoti in un certo qual modo. Non lo condivido molto, però si sa che poi alla fine faccio quello che il cliente vuole, perché comunque l'italiano è una lingua che ha mille mila sfaccettature, abbiamo mille mila vocaboli. L'inglese è veramente la metà della metà della della nostra terminologia, ma anche noi siamo più lunghi, con l'americano contrae tutto, noi invece siamo proprio più lunghi, per cui abbiamo pure bisogno di più tempo, no, per dire le cose. Questa nuova visione è castrante, anche se poi ci si adatta a tutto, la parola stessa è. Diciamo che come adattatrice, io entro sempre molto nel prodotto, a partire dagli attori, a quello che è il messaggio che vuole dare il regista e lo scendere. E a questo punto, ma qualche tuo collega mi ha detto che, ad esempio, nel caso di Frank Shane Junior, il famoso Ululi Ulula non compare nella versione originale, perché quella battuta in realtà era tradotta letteralmente, non aveva, per noi italiani, non aveva senso logico. A volte si introduce un prodotto italiano, però anche in passato è successo che nelle serie tv qualche tuo collega mi ha detto pure che si cercava di fare entrare come se fosse la pubblicità del prodotto successivo di un programma, un Bonolis, ma Bonolis non esiste in America, e loro dicevano ma perché bisogna parlare in quel modo, oppure utilizzare quel linguaggio, che non rispondeva in realtà nel fatto della questione. Sono diverse specchiettatorie, per esempio io quando mi trovavo ad adattare, non so se tu l'abbia visto Beetlejuice, il cartone animato, oppure Willy il principe di Bel Air, noi avevamo delle battute che in italiano non avevano proprio, cioè, Beetlejuice addirittura giocava sui termini, e sulla similitudine dei termini in americano, in inglese, e qui che potevo, qui non ci avevamo proprio a cui aggrapparci. Io mi ricordo che prendevo come spunto un termine, mi attaccavo a qualcosa, guardavo, osservavo quello che succedeva in tutto intorno, e costruivo la battuta, un lavoro improbo, perché poi dovevi far ridere, perché poi c'era la risata, non è che potevi lasciare una cosa pesa così. Per cui diciamo che era tostissimo, però alla fine che soddisfazione quando riuscivi a trovare la chiave giusta. E lì è come un lupo Luli, il castello Lullà, insomma, lì si sono dovuti inventare qualcosa che ha fatto un successone. Poi, se vai a vedere oltretutto il doppiaggio di Frankenstein Junior, non è un doppiaggio perfetto, anzi, ci sono dei fuori sinc paurosi, però si perdona il dialogo, quello che è l'eccezionalità, gli attori, la bravura, per me è una cosa, è un mito. Una cosa che ti posso dire, che mi è accaduta, mi fai ricordare, vedi, io ti ho detto che sono una dislessica, per cui vado a flash, che è anche la forza del mio lavoro, perché ogni volta che io approccio un lavoro, io annullo tutto e faccio un lavoro di ricerca infinita per non sbagliare, quindi non do mai nulla per scontato e questo mi aiuta poi a sbagliare meno, diciamo così, non voglio essere assolutista, però a sbagliare meno degli altri. Mi è successo, con uno degli adattamenti più belli che io abbia mai fatto, non so se conosci il prodotto, Angels in America, un prodotto meraviglioso, nel 2004, 11 Grammy Awards, quando mi arrivò per le mani questa miniserie che credevo di morire, ogni frase era una citazione, ogni frase riportava ad una citazione e ora non ti starò a dire tutto quanto perché è stata oltretutto una lavorazione molto sudata perché mi senti male, perché in una settimana dormivi solo cinque ore e mi trovai praticamente per terra svenuta per consegnare questo lavoro, per come ero meticolosa. E una frase in un dialogo particolare, un episodio, dove parlano due antenati, uno del 700 e uno del 400. In inglese si sono limitati insomma a dare la parte aulica del linguaggio a livello sonoro. Io invece mi sono andata a prendere le scritture del, mi ricordo Boccaccio, mi ricordo Dante, per assimilare il linguaggio del 400, del 700 e quindi parlare con quel linguaggio, solo che arrivai a un punto dove praticamente, siccome si parla degli AIDS, si parla di gay, e qui a certo punto uno dei due doveva dire gay, la parola gay, che da noi oltretutto in quell'epoca era poco intraducivo. e oltretutto non riuscivo a uscirne perché l'altro diceva ma che è sto gay, una cosa del gene. E io tirai fuori la parola, la trasformai in gaio. E fu una delle cose per cui la funzionaria e i funzionari a loro proprio darono invisibilio, perché ho risolto una situazione per un prodotto dell'epoca. Come ti giravi sbagliavi, lì presi pure una decisione molto importante, un'altra cosa carina, carina. Praticamente si parlava delle torri gemelle, il bersaglio, aiuto, ora c'ho un'amnesia come era del ground zero, veniva citato mio perito e mi aiuta, del ground zero e volevano lasciare il ground zero. E io dissi non è possibile in questo momento lasciare questa definizione perché riporta alle torri gemelle e siamo nell'85, qui le torri gemelle non ci sono. e lì mi imposi perché appunto secondo me poteva dare una visione sbagliata e misi bersaglio, feci passare la parola bersaglio. Sono tante cose, poi l'autore, io sono una che si inferbora con le lavorazioni pure troppo a volte, cerco di mantenere il punto fino all'ultimo e in questo insomma infatti vengo ritenuta abbastanza tosta, anche per il sync. Io entro in sala e gli attori mi devono rispettare il sync perché se la dico io, che non sono attrice, loro devono saperla dire. Insomma non è che sono un tipo facile alla fine, però sono una perfezionista, diciamo così. La presenza nello studio di registrazione, quanto è importante per un dialoghista, per la sua crescita, soprattutto professionale, in modo tale che gli permette poi di sviluppare determinate caratteristiche? Quando è importante la presenza sul posto e non essere a distanza e vedere soltanto il prodotto finito? Dunque, secondo me è molto importante, solo che la produttività del momento non lo consente. Infatti io sono dell'avviso che i grandi prodotti cinematografici dovrebbero essere adattati dalla persona e diretti, o comunque devono avere l'assistenza vicina del dialoghista, perché ci sono delle frasi e delle intenzioni che altrimenti anche il direttore, che per quanto si possa essere studiato il film, non ci arriva a volte perché ci sono delle appoggiature importanti da rispettare, che noi consideriamo anche quando diciamo la battuta, quindi che te la fa accorciare o allungare a seconda della recitazione. è molto importante. Sarebbe auspicabile la presenza del dialoghista sempre, però purtroppo non è così. A volte è difficile pure interfacciarci, perché io per esempio quando faccio gli addamentamenti seriali, e lì sarebbe impossibile, però voglio sempre sapere chi è il doppiatore, perché magari so che quel doppiatore parla molto velocemente e quell'altro più lentamente, e in base a quello cerco di dare delle indicazioni che possono aiutare in sala. Diciamo che qui entra anche l'imprenditrice, cioè se c'è un dialogo buono, migliore è il dialogo e migliore è il lavoro in sala, alla produttività e alla velocità. Io ti volevo chiedere a questo punto quando è importante formare, sviluppare l'equip, il rapporto che c'è tra l'equip, il dialoghista, il regista, il tecnico e il doppiatore. Quando è importante quest'unione che poi va a finire a un prodotto finale, che è il risultato, quello che andremo a vedere? Io lo ritengo molto importante, c'è il rapporto umano in mezzo, che purtroppo non c'è quasi sempre, nel senso che sia al di là della conoscenza, tra il doppiatore, l'attore, il direttore, c'è, però sono tante figure da mettere insieme, per cui secondo me alla base di tutto questo deve essere soprattutto un rispetto per i ruoli, che è quel giusto compromesso che aiuta poi a trovare la quadra per un rapporto finale che ti consenta di arrivare a fare un ottimo prodotto. Perché tante volte, anche come direttrice, mi sono trovata a fare una distribuzione dove c'era una voce, un attore perfetto per quel ruolo, o magari un attore che mi stava sulle balle da morire, antipatico, perché magari è altezzoso, perché però andava bene per quel luogo, tu lo devi chiamare, perché quello, il prodotto non può essere penalizzato da un'esperienza personale, tu devi lavorare per il prodotto, in funzione di quello. E se c'è un attore che ti sta sulle balle, per qualsiasi motivo, lo devi chiamare, essere professionale in sala, ed ecco a chi parlo di rispetto, perché comunque quando quell'attore o quell'attrice veniva, da parte mia c'era una massima disponibilità, professionalità, a far sì che il prodotto arrivasse a buon fine nel migliore dei modi. Ecco, superare questo, e questa si chiama anche meritoprazia, perché non siamo tutti uguali, no? Nel senso che se quell'attore merita quel ruolo, a prescindere da quello che c'è intorno, lo deve avere. Non con un universo e cose del genere. Quindi scegliere il personaggio, anche se l'ha fatto due volte, uno o tre volte l'altro, in base alle caratteristiche di quel momento, quindi ascoltarlo e visualizzare e soprattutto adattarlo a quel momento. Quindi l'artista posso scegliere uno o l'altro indifferentemente dal momento in cui ho necessità. Però chiamarli, ecco. Diciamo che la valutazione, il pubblico si affeziona a delle voci, no? Perché noi per esempio abbiamo oggi anche delle voci che, se tu apri l'originale, dici cosa c'entra questo col tipo, non faccio nomi ovviamente, però ormai sono anni che lo doppia lui, per cui alla fine te lo fai doppiare, cioè alla fine è anche la distribuzione che ti invita a doppiarlo. Però io non ti nascondo che personalmente io ho fatto delle scelte diverse che non hanno arrecato da anni, anzi, hanno migliorato il prodotto. Sono tanti i compromessi e le soluzioni che uno deve trovare, un po' perché poi non è che puoi violentarlo un prodotto, nel senso che se io scelgo un'altra voce o metto i provini, io per esempio quando facciamo i provini, io non mettevo mai nomi, io ho messo sempre i numeri, perché il cliente o chi per lui o il regista doveva decidere sulla base di quello che a lui sembrava la voce più vicina all'originale e quello che le sensazioni che gli dava. Mettere un nome è condizionante, non ci stanno tanti. Poi se lo riconosceva non era fare i suoi, eccetera, però per me c'era il numero, perché io non volevo penalizzare nessuno. Io lavoravo per il prodotto, che è quello che dovrebbe essere sempre, a mio avviso. Io perlomeno ho sempre fatto così, insomma. E mi sono ritrovata bene, anche perché se io dopo mi devo trovare a difendere un prodotto su delle scelte che non ho condiviso, non saprei neanche difenderlo. Mi beccherei tutti gli insulti che mi devo beccare, invece io devo mettermi nelle condizioni di difendere il mio lavoro. Io a questo punto ti chiederei, come dialoghista, come direttore di doppiaggio, come imprenditrice, com'è cambiato il mondo del doppiaggio da quando hai iniziato ad oggi? Soprattutto perché nella tua famiglia c'è tanto mondo del doppiaggio. Quindi come hai visto questo cambiamento? Come hai vissuto questo cambiamento? Beh, diciamo che non l'ho vissuto bene, considera che quando io abbiamo aperto la società era il 2000. Stavamo a Cinecittà, in una location magnifica. Io ho amato, ho avuto un entusiasmo travolgente, nel senso che comunque con le mie iniziative ho fatto il Gran Premio del doppiaggio, e poi la rassegna del doppiaggio e cercavo sempre di lavorare per dare valore a questo settore che quando ho iniziato io nel 96, la prima mia manifestazione è stata nel 96 e non c'era nulla, nulla dedicato al doppiaggio. E tant'è che mi presero anche un po' in giro, ma chi vuole che ci viene, ma chi si rifiola ai doppiatori? Beh, io ti dico che io feci nel 96 la prima rassegna del doppiaggio italiano al Gilda, un noto locale allora di Roma, e dovettero chiamare la polizia per sedare le persone all'ingresso. Io ho avuto 800 persone dentro il locale, più tutti quelli fuori che si spintenuavano, perché io ho capito che il doppiaggio aveva una valenza superiore a quello che si diceva, ma gli stessi ai doppiatori non ci credevano. Da lì è stato il primo passo, e sono state fatte altre assegne, ho fatto il Gran Premio del doppiaggio, nel 98 è stato il mio primo Gran Premio del doppiaggio, in assoluto 500 persone, premio alla carriera dei Peppe Rinaldi, che è una delle cose che ricordo con più affetto. Però ecco, a un certo punto, dopo aver fatto altre edizioni, ho mollato l'osso, perché ho visto che si stava trasformando, si stava trasformando tutto, e si stava sporcando quello che io avevo fatto, e quindi mi sono lentamente allontanata, anche perché a un certo punto questo fiorire di scuole, un attimo, io lo sto dicendo, ma non condanno le scuole di doppiaggio. Doppiaggio è cambiato tantissimo, ripeto, l'entusiasmo che infatti avevo inizialmente è stato un po' sedato da quello che poi vedevo intorno, cioè io sono una spontanea, non sono nata nell'ambiente, per cui io vengo fuori e vedevo tutto con un occhio da sognatrice, ma anche un po' da visionaria, perché quello che ho fatto era da visionario. Ripeto, mi sono presa gente che non ci chiedeva, che mi ha preso i fondelli all'inizio, quando poi ho visto che il prodotto funzionava, si sono buttati tutti sul carcassa, diciamo, sono nati il premio Voce nell'Ombra e poi tutti i premi in giro che ci sono, Sardegna, Romics, sono nati tutti dopo. E ti dico una cosa, paradossalmente, in tanti anni, con tanti premi, nessuno mi ha mai invitata a uno di questi premi. Questo ti fa capire, ti fa capire quello che possa essere stata la delusione per me, perché non ho mai negato a nessun altro, non sono mai stata, non ho mai chiesto l'esclusività, tant'è che il Gran Premio mi è stato rubato, tra virgolette, no, tra virgolette, è stato proprio rubato, perché io ho affidato un'intera cartella a una persona, perché mi interessava solamente far crescere il prodotto. Non ci volevo speculare. Però ecco, questo ti dice perché a un certo punto io mi sono allontanata dal doppiaggio in genere. Cioè, è possibile che una come me, che onestamente, immodestamente, ha creato veramente i presupporti per tutti i premi, manifestazioni, il doppiaggio, non sia mai stata invitata a una di queste manifestazioni. E allora mi domando perché? Che cosa, di che avevano paura? Io avrei fatto, l'avrei solo che applaudito. E allora capisci che la mente degli altri non è come la tua, che tu sei, io sono pulita, mi ritengo una persona molto pulita, è che gli altri probabilmente facevano delle loro manifestazioni un uso completamente differente, speculativo o per altri intenti. Questa è l'unica spiegazione che io mi do. Se poi qualcuno mi vorrà dare una risposta diversa da questa la accetterò e magari forse però per dirti. E allora a questo punto io ho deciso per un periodo di prendere modo di allontanarmi, ho chiuso la società di doppiaggio, ho fatto dei dialoghi per la RAI, eccetera, per persone che insomma poi hanno bisogno di un certo tipo di qualità per cui si riferivano a me però non ti nascondo che ultimamente sto iniziando a pensare di riaffacciarmi perché poi comunque la rassegna per esempio è un prodotto che io voglio riproporre la rassegna del doppiaggio il Gran Previo non lo voglio lasciar perdere per il momento così anche se quello è perché è una cosa che deve andare avanti con gli avvocati e non mi va nemmeno di metterci la testa adesso però la rassegna non escludo che a settembre potrei mettere su un nuovo numero qua te lo farò sapere eventualmente e all'interno della rassegna noi mettevamo delle clip in massimo 15 secondi dove venivano promossi tutti i prodotti che sarebbero andati nella stagione successiva ecco perché voglio farlo a settembre quindi che sia cinema che sia tv adesso con tutte le piattaforme io addirittura la pubblicità ci avevo messo in mezzo ed era carino perché noi presentavamo quello il cast di doppiaggio e poi tra un genere e l'altro numeri di spettacoli fatti dai doppiatori spettacoli fatti dai doppiatori chi cantava chi recitava il comico numeri fatti apposta un'ora e mezza di spettacolo divertentissimo che voglio tornare a fare perché mi divertivo veramente tanto a prescindere e anche un modo diciamo per riprendere quello che del doppiaggio di buono c'è e per riafacciarmi e anche perché insomma alla mia età forse riuscirei a farlo con un occhio diverso sempre mantenendo l'integrità assolutamente perché quella purtroppo ce l'ho e me la tengo quando tu hai detto che i doppiatori in quel periodo non ci credevano loro c'erano i registi come Fellini che credevano molto ed erano molto attaccati al doppiaggio perché lui faceva dire i numeri oppure battute o là là o qua qua per poi metterci e viva ha fatto 13 in realtà lui diceva la battuta nel doppiaggio diceva abbiamo vinto oppure e ovviamente Fellini ci ha accampato con il doppiaggio però io ti vorrei chiedere l'ultima domanda e ci giocava infatti alcuni che hanno lavorato con Fellini mi hanno raccontato questa cosa però era molto lui ci teneva molto ed era veramente molto preciso su queste cose io l'ultima domanda qual'è l'emozione che hai provato per la prima volta quando hai visto realizzato il tuo primo adattamento che hai fatto e qual è l'emozione che hai provato le sensazioni che hai provato dire ecco è finito lavoro finito e a quel punto c'avevi il prodotto lì davanti e te lo sei visto allora devo dirti la verità che ogni prodotto che ho fatto e che ho rivisto mi ha dato emozione poi quando trovavo vedevo gli errori mi sentivo proprio male no no tutti i prodotti tutti ogni volta guarda io il primo lavoro che ho fatto me lo ditte a colla Tonino perché io avevo fatto già qualche turnetto di doppiaggio ma non era il doppiaggio della mia vita io facevo altro però conosceva mio marito Andrea per cui a un certo punto sapeva che aveva appena avuto un bambino e che io era a casa quindi ferma non potevo fare il mio lavoro che era fuori e mi disse ma perché mi dice a tua moglie se mi prova a fare questi adattamenti ed erano degli adattamenti in tre lingue cioè erano tre episodi tre lingue diverse mi ricordo spagnolo inglese e francese per cui io dovevo unire perché era una coproduzione una cosa non mi ricordo e io mi se le panni dei capelli ma io non l'ho mai fatto però la fortuna volle che io avendo fatto un po' di doppiaggio avevo cognizione di tutte quelle che erano le formazioni tecniche che dobbiamo mettere noi i tempi eccetera per cui quando questi prodotti andarono benissimo per come l'avevo fatti e che poi ti confesso che la difficoltà fu relativa cioè è come se io avessi sempre fatto l'adattatrice per cui evidentemente ero anche portata a fare questo tipo di lavoro è emozionatissima quando ho visto parlare con i miei testi gli attori ma ti ripeto ogni volta l'emozione credo sia sempre la stessa quando vedo un film o un prodotto mio doppiato e soffro da morire quando vedo che c'è qualcosina che non va ma proprio soffro cioè non riesco a a fare a meno di soffrire mi capita tirato devo dire la verità però quando capita che poi magari la vedo solo io gli altri non si decorvono neanche magari una cosa fuori sinca magari oddio li potevo mettere questa parola invece di quella però insomma amo il mio lavoro lo amo molto profondamente e spero che si recuperi anche in questo senso un po' di quel tempo che oggi non ci è più dato per curarlo bene perché diventa una corsa in continua cioè un film ti ritrovi a farlo in 3-4 giorni mentre prima lo facevo in 10 capito per carità lo fai però lavoro il giorno notte è vero che con 4 figli sono abituato a lavorare di notte ormai anche se i miei figli sono molto grandi però è un'ammazzata insomma ogni volta devi dimenticarti tutto casa tutto tutto per cui mi piacerebbe che si tornasse a fare con un pochino più di tranquillità non credo che sia possibile visto i ritmi di oggi però ci si abituerà anche a quello poi i giorni saranno senz'altro più abituati di me adesso ormai perché nascono con questa impostazione ovviamente io ti ringrazio per essere stato ospite insieme a noi perché ci hai raccontato un'altra parte del mondo del doppiaggio che noi amiamo ricordiamo che io ricordo sempre che la cultura il doppiaggio la musica il cinema è cultura ma deve essere pagato il giusto perché ogni artista ogni professionista ha una famiglia da portare a tavola e pagare le bollette quindi la cosa più importante è quello e quindi perché la fama non riempie la mangia ma il pille denaro riempie lo stomaco quindi io posso dire solo una cosa diciamo che il doppiaggio come l'arrattamento non posso dire che la retribuzione non sia buona è una buona retribuzione il problema qual è? è prenderla cioè i pagamenti che vanno a sei mesi no? perché magari tu nel frattempo ti pagare affitto la luce il gas però diciamo che sono lavori che hanno una buona retribuzione quando vengono pagati ecco questo lo posso dire senz'altro a questo punto ci va andare una cosa più semplice i saluti finali io ringrazio te per avermi dato questo spazio perché comunque è stata un'occasione anche per un po' liberarmi da qualche sassolino saluto tutti quanti e spero che invece mi seguano anche per quanto riguarda le iniziative future tipo la rassegna del doppiaggio che mi farà piacere organizzare se poi avrò del supporto anche del tifo mi incoraggerò a farlo ancora con più amore e più entusiasmo studio 7 tv e sport picciano game hanno presentato l'intervista di pietro ospite della puntata e anche per l'intervista di pietro l'intervista di pietro l'intervista di pietro Grazie a tutti.